Passo il G-Bit e oggi proverò a fare i guardi all'inizio. Adesso cominciamo a guardi all'inizio. Truff i dimenti, i dimenti, i dimenti, i dimenti, i dimenti, i dimenti, i dimenti... Ho 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 ho! Sono poco fuori! Possiamo a guardare. Hamdi. Casimo! c'era quasi sul giro del mondo e ho ripreso la tavola asciuga un falso riuscimento è un varial in flip con un po' di... il giro del giro il giro del giro del giro il giro del giro dopo questa dovresti chiuderlo il prossimo tentativo dai il giro del giro il giro del giro beh insomma questo era uno dei primi che facevo abbiate pazienza magari lo imparerò meglio nei prossimi giorni però insomma come i primi tentativi mi sembrano ok? guardate la scarpa da notare la scarpa non ce l'avevo così prima di iniziare cioè beh non così aperta almeno un po' sì però questo e questo erano più stretti questo è rimasto sempre lo stesso grazie grazie per la visione grazie il primo da dare per la vittoria della trick challenge per aver chiuso variali flip grazie grazie